E' stato 2012, con Dice Morela, M2O Forever, dalle due alle tre, su M2O Mali Box presents M2O Forever, buckle your seatbelt, it's going to be a bumpy ride Allora, mi è stato che ti è stato mandato dove? Alla mia pagina di Facebook, DJ Pierino, appunto su Facebook c'ho la pagina, il profilo, i ragazzi che fanno i mashup me li mandano lì, la posto pure sulla bacheca Io li scarico, li ascolto bene e poi li seleziono col Mali e vanno in onda ogni mercoledì su M2O Esatto, quello di questo oggi finalmente è italiano e fatto da chi? Esatto, lui si chiama Rino Santaniello, un ragazzo conosciuto perché abbiamo già passato qualcosa di suo nel Mali Box È un ragazzo di Taranto che ha 30 anni e ha messo insieme la base di Lemonade di Alexander Stan, uno dei successi dell'estate 2012, penso che lo conoscano un po' tutti Mentre la voce è quella di un cantato di un gruppo del 1990, loro sono i Beat International Che appunto nel 90 hanno fatto quel pezzo che si chiama Dub, Dub Be Good To Me Just Be Good To Me, Dub Just Be Good To Me Esatto, esatto, è quello lì Lo sentiamo? Lo sentiamo insieme, Cassida Eh, ma l'ha rinominato in qualche modo oppure no? L'ha rinominato in Lemonade Be Good To Me Quindi Lemonade Be Good To Me di Rino Santaniello, giusto? Esatto Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. People always talk about reputation I don't care what you do to them Just be good to me And just be good to me È stiloso però a quest'ora del pomeriggio mi fa un po' venire sonno, devo dirti la verità Pierino. Abbiamo rallentato un attimino le battute rispetto al programma consueto, però ci stava, siamo tornati indietro un attimino nel tempo. Diciamo che mi hai frantumato talmente tanto che c'è stato, però se dovevo... Alexandra Stenco, Lemonade, Beats International, Just Be Good To Me, il mashup di oggi che avete appena sentito. Di Rino Santaniello. Continuate a mandare, tra l'altro mi hai detto prima, mentre ci siamo sentiti, lo dico anche agli amici, che ne stanno arrivando un sacco e ne hai molti per le prossime settimane. Sì, ne sono arrivati belli, ne presentiamo un altro mercoledì prossimo, giusto Molly, e poi andiamo in vacanza.